Signore e signori, buonasera. Questo è Minecraftita, io sono Surry e bentornati nella mitica avventura della stanza dell'Atlante perché, ebbene, anche se abbiamo completato la stanza, come possiamo vedere superando il nostro guardoggo, il progetto non termina qui. Numero uno, sicuramente dobbiamo piazzare il vetro lì, il vetro quello lì scuro che non fa passare la luce, molto bello, devo ancora prenderlo, provo bene lo stesso e lo metteremo in modo da completare il cerchio, giusto? Sì, giusto, quindi dovrò rimuovere tutta questa bellissima cobblestone. Ma non solo, il progetto non termina qui per un altro motivo. Sì, lo so, questi villaggi hanno delle forme un po' particolari, ma va bene lo stesso. Andremo a piazzare dei banner e io, per capire bene come funziona il tutto, partirei piazzando un banner da qui, dalla Valle Incantata. Visto che abbiamo la mappa che è a nostra disposizione, ce l'abbiamo comoda qui, possiamo vedere dove siamo in tutti i momenti. Allora, bisogna realizzare dei banner. Ora, noi abbiamo dei banner da parte, un paio, che sono gli ominous banner. Forse abbiamo anche più di un paio, non so di preciso dove, ma sono abbastanza sicuro di averne più di uno di banner da parte. Ma fatto sta che a noi non interessano, perché ciò di cui abbiamo bisogno di sono dei banner, ecco, tipo questo. Tipo un white banner classico. Uh, ma abbiamo anche dei pattern. Ora, non ci interessano i pattern. No, non davvero. Però, ecco, guarda, light grey banner. Beh, già che ce li abbiamo, usiamoli. Ora, si potrebbe giocare anche con i colori, a dirla tutta. Eh, ed è vero. Però, partiamo dal white banner, che noi possiamo mettere qua dentro una anvil e rinominare come, eh, Valle Incantata. Ad esempio. Perché è il nome del nostro spazio. Ora, io lo vorrei mettere, in realtà, in modo che sia visibile dall'alto, ma che non dia troppo fastidio. Potremmo metterlo qui, però non voglio avere una roba bianca così a caso. Eh, potremmo metterlo nascosto da qualche parte, tanto anche se è sotto... Eh, tu, tipo qua dietro. Potremmo metterlo tipo qua dietro. Così. Ora, con la mappa in mano, clicchi col destro, boom, Valle Incantata. Ce l'abbiamo. Ora, andiamo a vedere com'è messo nella stanza dell'Atlante, ma immagino che sia simpatico. Eh, vorrei tra l'altro fare un giro nelle opzioni. Video settings. No, non è... Autosave indicator. Ok, leviamolo. Apply. No, perché strada che ogni volta che si aggiorna il mondo, me lo devi dire... Cioè, non lo so, siamo uno di quei giochi anni 2000. Va bene, comunque, se io ripiazzo la mia cosettina qui... Oddio, è piccolissimo. Ma non si legge nulla, è piccolissimo. Ma no, ma come? Non è stato molto più grande. Ma no, ma questo mi rovina a tutti i piani, dai. Cos'è piccolissimo, Valle Incantata così. Non si... Non si legge nulla. Ah, cavolo. No, io pensavo fosse molto più grande. C'è un modo per renderlo più grande? Ah, perché magari c'è e non lo conosco io. E così e basta. No, è un disastro. Cioè, è un disastro. Un disastro è un parolone. Però, insomma, poteva andare meglio. Ora, questo vuol dire anche un'altra cosa, che possiamo riempire la mappa... di diverse tipologie di cartelli e renderla ancora più bella. Però, insomma, devi zoomare per vedere. Che non è esattamente il massimo, se posso dire la mia. Ecco, diciamo che non è il massimo. Farm di ferro. Tra l'altro, ogni banner è un livello. Che potrebbe sembrare poco. Ma, signori, non lo è. Cioè, anche perché, come ben sapete, ci vuole un secondo per me per arrivare a piazzare 8000 bannerini. Questo lo piazziamo qui. Clicchiamo col destro sopra. Abbiamo la farm di ferro. Potremmo mettere anche la farm di bambù, in effetti. Già, sempre su questa mappa. E, sì, secondo me, sì, può andare. Farm di bambù. Anche se, obiettivamente, per il momento, non è che ci serve anche la farm di bambù. Però, insomma, per questione di cronaca, potremmo metterli. Ora, c'è anche da dire un'altra cosa. Visto che lo zoom è talmente piccolo che non si vede nulla, non so neanche se vale la pena utilizzare... A parte che avrò bisogno di un botto di lana. Ma non so neanche se vale la pena utilizzare colori diversi. Cioè, capito? Farm di bambù. Metto A, tra virgolette, tra parentesi per dire che è automatica. Make sense? Dai, sì, carino. Io vado qui, la metto alla base della farm di bambù, senza schiantarci. Tipo, potrei metterla qua. Clicco col destro. Boom, abbiamo la farm di bambù automatica. E qui, più o meno, abbiamo tutto. Cioè, tutto. Queste due cose. Ora, magari c'è un modo... Sicuramente c'è un modo per far venire più zoomate le scritte. Ma ho paura che possa implicare il zoomare tutta la mappa. Se zoomi tutta la mappa, abbiamo un problema, signori. È il problema... Guarda che bellino. Dai, simpatico così. Io... Verso il basso. Ora, in realtà così è anche troppo zoomato. Farm di bambù, farm di ferro. Sì, non c'è... Vedi tante piccole scrittine, ma obiettivamente... Cioè, questo potremmo chiamarlo pagodone. Qui ci chiamo Sakura Valley. Castello. Qua si chiamano il castello. O villaggio fortificato. Winter Wonderland. In realtà sì, non è che... Abbiamo lo strunzen. Allora... Vedi, vediamo... Che cazzo non si legge bene. Cioè, è tutto piccolissimo. Vabbè, se premiamo shift si vede un po' meglio, dai. Voi lo... Sul video non si legge tantissimo. Se guardate dalla TV magari sì. Tra l'altro ho scoperto che c'è una marea di gente che guarda i video dalla TV. Cioè, progressivamente sta sempre aumentando la quantità di gente che guarda le cose dalla TV. Vabbè, molto carino. E... Sai, avessi ancora l'Optifine, si potrebbe zoomare. Purtroppo non si può. Vabbè, comunque... Allora, sai che ti dico? Facciamo la Sakura Valley. Perché non ho neanche tutta questa lana com'è. Quindi, non è che dici, vabbè, puoi farlo infinito, vabbè, che ti frega. No, no. Finita lana. Cioè, Sakura Valley. Che è un po' tipo Silicon Valley. Però, versione... Aspetta, devo prendere la mappa. Che io sbaglio sempre. Prendo... Faccio i conti senza l'hoste. Perché non ti basta il banner. Devi avere la mappa da ricliccarci sopra. Altrimenti, tipo... Boom, boom, boom. Non riesco a prendere... Sì, mettiamola qui in alto a destra. La mettiamo vicino a Enzetto il draghetto. Enzino il draghetto? Enzetto? Non mi ricordo. Enrichetto, Enrichetto il draghetto. Giusto? Mi sa che potrebbe essere Enrichetto il draghetto. Questa la prendiamo su un albero. Tipo... Qui, così. Boom. Sakura Valley, ce l'abbiamo. Godo. Già di nuovo notte. Madonna. Se ho passato dieci minuti, ho piazzato due banner. Stai calmo. Voglio dire. Che cazzo. Allora, devo fare un pit stop alla farm di ragni. Per vedere se ho delle stringhe. Ok. Sakura Valley. Perché è così piccolo? Non so perché, ma immaginavo di poter scrivere delle cose abnormi. Tipo Sakura Valley gigante. Sarebbe stato incredibile. Sarebbe stato obiettivamente bellissimo, eh. Diciamocelo. Sarebbe stato bellissimo. Invece no. Farm di creeper, che fai? Non lo scrivi che è una farm di creeper? Aspetta, prima però. Prima andiamo a dormire. E poi vediamo quante stringhe riesco a recuperare. Perché io ho l'impressione, tra l'altro, che gran parte delle stringhe che avevo, da qualche parte, tipo nella farm, potrebbero essere finite nelle grinfie di qualche villager in scambio a dei smeraldi. Se così fosse, potremmo avere dei problemi. Ora, qui c'ho già uno stacchettino. C'ho due pezzi di white bull e basta. Uno stacchetto lo otteniamo sempre perché potrebbero servirci. Però con 64, cioè fai 16 pezzi di lana, che sono tre banner. Ora, meglio di niente? Assolutamente sì. Ma ci fa impazzire? Neanche troppo. Neanche troppo. Mettiamola così. Allora, andiamo un attimino alla farm di ragni. Perché se no meglio qui di stringhe ne ho. Giusto? Beh. Deve andare meglio. Deve andare leggerissimamente meglio. Ora, c'ho anche dei glowing sac che è positivo. Nella mia spada qua c'ho anche... No, non c'ho fortuna. Anzi, non ho looting. Allora, usiamo la mia spada normale invece. Anche se ci metto di più per ammazzare la gente. Che magari mi dà delle stringhe in più. Ora, magari no. Però magari sì. Eh, otto stringhe, vedi? Tre stringhe. Qualcosina me lo dà. Eh, meglio questo che una farm di pecore, signori. Anche se una farm di pecore potrebbe essere una bella idea. Perché ho vera e lana colorata. Non è molto utile perché io non le uso mai. Cioè, non uso mai la lana. Però insomma, potrebbe avere senso. Sono quelle cose che quando ce le hai poi inizi ad usarle. Più o meno. Va bene, comunque così abbiamo un'altra lana bianca. Mace. Perché non posso fare la mace? Perché non mi ha dato le vicori il pezzo di merda. Quante, quante ne ho spodate di quelle, di quelle trial chambers? Mortacci sua. Vabbè, comunque. Ok, 46 già mi sembra un buon numero. Già così mi sento più, più a mio agio. Vuoi morire? Per favore, grazie. Se mi dai anche un po' di esperienza non mi fa, non mi fa schifo che devo. Ogni banner è un livello in meno. Grazie. Grazie, grazie a lei, grazie a ca. Perfetto, possiamo andarcene. Queste sono altri quattro pezzi di lana. Cinque. Siamo carichi? A molla. A molla, signori. Allora, vediamo quanti riusciamo a crearne. Prendiamo tutte le mappe del caso. Allora, quanti sticcò? Neanche troppi. Ho altri sticchini da parte. No, dai, è impossibile che non c'ho sticchetti. Uno sticchettino. Vabbè, creamoli. Intanto sei banner. Minchia. Non so se ce la faccio a fare sei banner. Quanti me li fai fare? Ok, dai. Riuscivo a fare sette, forse otto. Allora, sicuramente farm di creeper che fai, non la metti? Per forza. Farm di creeper. Anche qui è automatica. Poi, vediamo cos'altro posso inserire. Abbiamo la farm di creeper. Beh, qui non è che ci sia molto altro. Potrei scrivere il pagodone. Perché pagodone è troppo bello per non mettere il pagodone. Prendiamo il pagodone. E... E... La farm di creeper. Ok, tanto sono uno sopra l'altro. Quindi devo fare il pagodone. Poi possiamo fare anche castello. Io, in onore dei vecchi tempi, lo chiamerei il castello di Fappenstein. Non so chi se lo ricorda. È una roba un po', diciamo... Dove è la mappa qui? No, no. Prendiamo quella sotto. Ok. Il castello di Fappenstein, signori... Beh... Nostalgico, eh. Forse è della season 3, se non ricordo. Forse è anche meno della season 3 di Minecraft Ita. Tempor sono. Tempor sono. Or sono. Allora, pagodona... O la pagoda? Pagoda. Si chiama pagoda. Giapponese. Abbiamo la pagoda giapponese e scriviamo il castello di Fappenstein. Fappenstein è scritto come... Frankenstein and Stain. Perfetto, è giusto. Quindi abbiamo il pagoda giapponese. Castello di Fappenstein. Perfetto. Abbiamo la farm di Creeper. Io farei anche lo strunzen, già che siamo qua. Ok, ok. Allora, partiamo prima... Oh, perché non volo? Ho detto magari ho fatto un forfait. Allora, prendiamo... Ah, farm di Creeper. Tiamo la farm di Creeper e la mettiamo magari sotto il cerchione. Tanto qui dovremmo avere una base dove poterlo mettere. Dove ce l'ho? Farm di Creeper. Eccolo qui. Lo mettiamo proprio qui sotto. Così, centrale. Qua. Posso attaccarlo lì? No? E posso attaccarlo qui magari. Fare così. Clicco col destro. Abbiamo la farm di Creeper. Perfetto. Poi abbiamo... Questo cos'è? Il pagodone. Prepariamoci la pagoda giapponese. Andiamo a mettere... Anche questa la metterei sotto. In modo che sia tutto verso sud. Ora, questo... Mmm... Possiamo metterlo dentro magari, eh. Che ci dà meno fastidio. Tipo lo mettiamo così. Boom! Pagoda giapponese. E si gode. Poi, ultimo ma non meno importante. Il castello di Fappenstein. Questo... Io lo metterei sotto la torre d'orologio. In modo che sia centrale. Che dite? Io direi di sì. Qualc'altro qui bisogna fare un'intervention di qualche tipo. Perché cazzo... Abbiamo... A parte che ci sono pieno di cose qui. Ma si bloccano. E quindi non possono proteggere i miei amichetti. Dammi la possibilità di uscire. Così ce la fate uscire, eh. Per forza, dai. No, perché altrimenti continuano a morire i villager. Perché tutti gli Aaron Golem vengono bloccati qui. E non sanno come difendere poi i miei amichetti. Che è un problema, signori. È un problema. Io questo lo metterei qui. Onestamente. Bello nascosto. Boom! Castello di Fappenstein. E lo strunzio in realtà è un'altra mappa. Che non ho preso. Però andiamo a farlo subito. Intanto ripiazziamo questo e vediamo com'è il lavoro. Ora, questa è una cosa più che... Per noi, per saperla. Che non per vederla. Perché effettivamente sono davvero piccolini ste cazzo di cose. Vedi, c'è il cazzo più piccolo di così si muore. Poi soprattutto, se scrivi Castello di Fappenstein. Porca vacca, ragazzi, ma devi zoomare di... Hai bisogno di ingrandimento per leggere. Do il cazzo sta? Qua dentro. No? Eccolo. Cioè, capito? Di che bisogno per leggere sta roba qui? Non si legge nulla. Nulla. Un disastro. Un disastro. Madonna. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. La diga che fai? Non la scrivi la... No, no. La diga lasciamo stare. Mettiamo strunze in un secondo. Tipo qui. Una mappa centrale. Che almeno strunze ce lo siamo levati dalle pallen. E questo lo attaccherei sotto un albero, tipo. Sotto un albero un po' tipo a metà. Tipo qui. Tipo qui. Tipo... Qui dietro. Così che non si veda. Ecco qua. Strunze. Vedi? Strunze che vede invece una bella parola piccolina. Si legge bello grande. O forse perché è la cosa più volgare qua in mezzo. Eh, forse anche per quello, eh. Potrebbe aver influito. Potrebbe. Tiamo lo strunze. Vai. Boom. Guarda come si legge bene strunze. Maledetto. Maledetto. Allora. Bello è bello, eh. Cioè nel senso bello. È simpatico da vedere. Sicuramente. A parte il castello di Fa. Pestani che non si vede nulla. Qui zoomando viene una bella copertina. Mi dispiace che non sia effettivamente visibile. Winter Wonderland non l'avevo fatto? Eh, no. Facciamo anche Winter Wonderland. Che lo mettiamo qui nel mezzo. Forse un po' più in basso. Posso metterlo? Tipo vicino all'igloo. Mettiamo tipo vicino all'igloo, sì. E poi in realtà... Cos'altro? Eh, questo. Sono queste tutte le cose che ho costruito? Beh, non è vero. Potremmo mettere anche la fam di Sugar Kings Automatica. La fam di Sugar Kings Manuale. Il Lago Oduria. No, no, no. Di cose da mettere ce ne sono. Fitto sta che ho quasi finito i banner. Però va bene lo stesso. Prendiamo anche il Lago Oduria. Lo mettiamo qui in basso. Allora. Cioè, prima Winter Wonderland. E poi il Lago Oduria. No? Non nello Smoker. Magari... Ecco qua dentro. Winter Wonderland. Ok? E il Lago Oduria. Perfetto. Siamo noi, signori. Siamo noi. Partiamo dalla Winter Wonderland. E finiamo con il Lago Oduria. Perché... Potrei anche mettere molti di più di banner, ma col fatto che non si vedono non sono molto tentato. Devo essere onesto. Allora, questo lo mettiamo magari sotto... Anzi, sopra... Mettiamolo dentro all'igloo. Così che non si veda da lontano. Poi è vero che un banner bianco potrebbe sembrare semplicemente neve, eh. Però noi lo mettiamo qui dentro. E abbiamo Winter Wonderland. Poi prendiamo invece il Lago Oduria. Il Lago Oduria dove lo mettiamo? Lo mettiamo sempre sopra. Tipo qui vicino... O in mezzo... Beh, non posso metterlo... Posso metterlo sott'acqua a un banner? Vediamo. Posso! E allora si gode. Boom. Abbiamo un Lago Oduria centrale così. Non posso volare. Torniamo a dormire. Allora, bello il Lago Oduria così in mezzo al lago. Molto bello. Molto bello. Ma questo? Cos'è? Qualcuno sta scavando un punto in ingresso nascosto per il mio castello? Ok, no. Sembrava di sì. Ah, si sono liberati... Ieri un golem. Vuol dire che i miei villager saranno più al sicuro rispetto a me. Prima. Ripiazziamo queste due bellissime mappette. E vediamo com'è la situazione. Allora, il Lago Oduria lo mettiamo qua. No, questa è la mia spada. Il Lago Oduria lo mettiamo qua. E qua mettiamo Winter Wonderland. Eccovi, di Lago Oduria si vede bene. Winter Wonder è troppo lungo. Doveva ammettere che se è troppo lungo metteva uno sotto l'altro. Così rimaneva di un carattere grande. Perché qui Farm di Ferro si legge bene. Sakura Valley. Pagola giapponese si legge poco. Strunzene è quello che si legge meglio. Cioè, capisci? C'è un problema. Strunzene è quello che si legge meglio. Vabbè. Comunque. Toccherà utilizzare altri metodi per far riconoscere le cose che ci sono all'interno. Che non so quali potrebbero essere. Detta così. Però, oh. In qualche modo si farà. Tocca. Tocca. Winter Wonder si legge davvero poco. No, fermo lì. No, fermo lì. Cioè, capito che lavoro devo fare per leggere Winter Wonderland. Che poi non vedo neanche più dov'è. Dovrebbero esserci dei mini bannerini con in 3D. Madonna, che figata sarebbe. Che in 3D ti viene, ti compare, che cos'è. Che puoi camminare in mezzo alle cose. Vabbè, diciamo, c'è già così, è molto bello, eh. È venuto un bel progettino. Non è che ci stiamo lamentando. Oddio, ci stiamo lamentando, ma poco poco. Un pochino. Un non nulla. Davvero poco. Davvero poco poco. Ah, qui abbiamo la Silicon Valley, tra l'altro. Che fai? Non la metti la Silicon Valley. Mettiamo la Silicon Valley. Eh, senza Silicon Valley dove vai? Signori, dai. Per favore. Insomma, mica qui a pittina le bambole, eh. Allora, mi serve un altro stickettino. Per fare un altro bannerino. Allora, fai così. Potremmo già farne due, in effetti. Non so per cosa usarli, però. Uno. E due. Ok. Allora, sicuramente Silicon Valley. Che si leggerà poco, però tocca. Allora, dove lo mettiamo? Io direi, mettiamolo proprio... Sotto la farm di alberi. No, forse ci conviene metterlo dietro questa roba qua. Dietro questo aggeggino. Tanto questo non ci interessa. Noi qui dobbiamo accedere. Dobbiamo poter accedere, però, lì, noi. Allora, aspetta, lo spostiamo e lo mettiamo di qua. Boom. Perfetto. Silicon Valley ce l'abbiamo. Stonks. Steve Jobs sarebbe fiero di noi? Oddio. Forse sì, forse no. Aia. Aia, mi sono schiantato. Allora, piazza Silicon Valley. Boom. Ok, anche questo non si vede un cazzo, però almeno ce l'abbiamo. Almeno ce l'abbiamo. Va bene. Sì, pensavo un po' meglio per questa aggiuntina, ma ci piace lo stesso. Sì, questi villaggi hanno delle forme davvero strane comunque, eh. Mannaggia. Comunque bellissimo. Signori, per questa puntata è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Ci vediamo prossimamente sempre qui sul canale Minecraft Ita. Minecraft and Chill, ma soprattutto su... Cosa cazzo? Maledetto. Tu che vieni a spiarmi. Dove sei? Dai, viece? Dai, viece? Ah, muori prima, eh? Non ce la fai. Maledetto. Ok. Signori, per questo video è tutto. Ci vediamo presto. Ciao a turuturutti.